Mio padre non è diverso da qualunque altro uomo di potere, da chiunque abbia la responsabilità di altri uomini. Però ti assicuro che se mi dessero quella parte nel film, capisci? Io vorrei tornare a galla meglio di prima. La cinematografia ti darà quello che vuoi. Non c'è niente da fare. Mi farò un'offerta che non puoi rifiutare. Lei sa chi è mio padre. Stanno venendo qui per uccidere. Negli affari di famiglia non ci volevi entrare. Credevo che non saresti mai diventato come tuo padre. Ma non volevo che la facessi tu questa vita. Fredo, sei il fratello maggiore e io ti voglio bene. Ma non ti azzardare a schierarti mai più contro la famiglia. Chiaro? Mai più. Michael, rinuncia a Satana. Rinuncia a tutte le sue opere. Sì, rinuncio. Non mi scherzi nei miei affari. È vero. Basta! La pistola, lasciala. Via me i cannoli. La pistola, 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 la pistola. Grazie a tutti.